Come preannunciato oggi sciopero di otto ore per ciascun turno di lavoro di tutte le maestranze alla Purem di Castellalto, azienda che produce per il settore automotive tubi di scappamento. Azione resa sinnecessaria dopo che la multinazionale tedesca ha comunicato in una nota l'indisponibilità a partecipare al tavolo convocato dal presidente della provincia di Teramo e organizzato per fare il punto sul futuro dell'azienda. Noi ci sentiamo presi in giro, ma non solo una presa in giro per le istituzioni ma anche per le parti sindacali, ma in particolar modo per i lavoratori che sono stati spremuti come dei limoni degli ultimi tempi. Ricordiamo che l'azienda ha fatto un fatturato di 145 milioni di euro soltanto nel periodo della pandemia, quindi ci sentiamo boicottati e di tutta risposta abbiamo organizzato questo sciopero di otto ore per dare un segnale forte alla proprietà che deve venire al tavolo istituzionale e dirci che cosa vuole fare di queste 80 maestranze. L'azienda ricordiamo ha annunciato la volontà di voler delocalizzare una parte della produzione in Romania, scelta che porterebbe alla perdita di circa 80 posti di lavoro sia diretti che interinali, creando così una situazione di profonda incertezza per le famiglie coinvolte. Questa è la cosiddetta valle del tubo perché qui le aziende si occupano di marmitte, fanno tubi di scappamento, questa è una di quelle aziende e mentre la politica regionale, il presidente della regione Abruzzo esulta per aver portato a casa il risultato della proroga, della sottoscrizione e della fine del motore endotermico, qui è evidente che nel frattempo le imprese fanno le loro scelte e questa è una di quelle aziende che nel frattempo ha fatto le sue scelte delocalizzando una produzione in Romania. Presenti anche le istituzioni, il primo ad arrivare il presidente della provincia di Teramo Camillo D'Angelo che ha annunciato che replicherà con una dura lettera alla Purem contestando la scelta di non sedersi al tavolo di crisi dell'automotive. Si cercherà di fare il massimo per guidare questa battaglia a favore di tante famiglie che rischiano purtroppo di andare a casa, rischiano tante persone che vivevano su questa realtà e quindi di vivere attraverso questa realtà, oggi non hanno risposta o meglio non si è aperto un tavolo, cosa che auspicavamo e cosa che crediamo sia necessaria per iniziare una trattativa, un colloquio per quello che può essere un percorso che possa facilitare anche una soluzione. Durante lo sciopero è arrivato anche l'assessore Pietro Quaresimale che ha annunciato come richiesto dai sindacati l'istituzione di un tavolo regionale. Già da oggi mi attivo per convocare l'azienda, i vertici per capire quali sono le loro intenzioni, è assurdo che ad oggi non abbia dato riscontro a una nota della provincia, farò un'ulteriore nota io di convocazione in cui voglio precettarli affinché si seguano al tavolo regionale, vogliamo capire quali sono le problematiche e faremo di tutto come regione per evitarle subito di questi lavoratori.